Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Non è nemmeno quello un problema sul nome. Meloni ha tutto il diritto di esercitare cosa? Un metodo, mentre invece non condividiamo se diventano personalismi, se ci sono veti ad personam, se ci sono, diciamo così, degli indirizzi puntuali. Questo non sta nelle cose, nella grammatica politica. Non può essere esclusa dal governo? Guardi, io dico questo. Uno dei problemi tra l'altro del governo Draghi, lo sappiamo, lo abbiamo visto, lo abbiamo vissuto, è che i nomi che sono andati a comporre il Consiglio dei Ministri sono stati scelti dal Premier più che dai partiti. E questo ha iniziato, se non altro, a creare una fragilità sistemica. Allora io dico, i partiti devono concordare con il Premier incaricato, ripeto, un metodo. All'interno di quel metodo però hanno tutta l'autonomia per esprimere le proprie persone più autorevoli. A meno che non ci siano casi di gravità superiore, che però francamente non vedo in alcuni dei nomi che nemmeno il Presidente Berlusconi e noi di Forza Italia metteremmo avanti. Quindi io consiglio a tutti e in questo senso riprendo anche un po' a ragione Pietro Salvatori. Cioè qua c'è anche la misura del leader della coalizione. Però attenzione, il leader della coalizione è tale, prima è stato evocato Berlusconi che per tantissimi anni lo ha fatto, lo ha fatto bene ed è durato tanto proprio per questo. Il leader è quello che poi smussa gli angoli, non che li acuisce, quello che alla fine media, quello che lascia sul terreno con generosità un po' del proprio per darlo agli alleati. È quello a cui va, diciamo, l'ultima chiamata di responsabilità. Io ho detto questo, sono certo che Meloni abbia questa attitudine, avrà questo atteggiamento. E noi andiamo al tavolo con tutta la voglia di chiudere bene, di seguire le indicazioni di metodo. Poi la politica delle regole, no veti, no personalismi e i partiti decidono a casa loro, dato il metodo, le persone più autorevoli. E Forza Italia ne ha tante. Allora ci torniamo, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Chiedo scusa a Massimiliano Smeriglio e poi arriviamo subito dopo la pubblicità da lui.